benvenuti alla seconda puntata della voce della fenice di cosa parleremo oggi semplice il natale secondo voi è davvero in pericolo come dicono difendiamo la nostra cultura difendiamo il natale ma se esiste da secoli come potrebbe essere annullato in un attimo così semplicemente perché l'idea stessa che possa sparire diventa un pretesto per farsi pubblicità diciamo a chi se voi piglia un po' devoti quindi secondo voi è davvero in pericolo questo natale oppure l'unica cosa che è in pericolo è diciamo così libero pensiero annegato dalla retorica fatemi sapere cosa ne pensate commentate come al solito se volete questo video proprio qui ciao ciao ci vediamo domani